Benvenuti nel canale televisivo sportivo. Oggi con le ultime notizie come maglia del Toronto e lo ha fatto nel modo che meglio sa, con il suo tiragir, marchio di fabbrica cresciuto e consolidato nel Napoli e ora esportato anche al di là dell'oceano dove era già scoppiata la tiragiromania tra i tifosi della franchigia canadese. Una gol che è diventato subito virale sul web e che ha permesso a Toronto di vincere in trasferta 4-3 sul Nashville. Una vittoria che ha parlato la lingua del bel paese grazie alla perla regalata dall'ex Napoli che è seguita al gol siglato dal dischetto da un perfetto Bernardeschi per il finale successo esterno sul campo del Nashville, ancora una volta facendo trasalire i tifosi canadesi più che innamorati dei due giocatori italiani. L'ex capitano del Napoli ha impiegato 77 minuti per trovare lo spunto vincente, con il suo solito dribbling sulla tre quarti per provare a liberare il destro, finte perfette che hanno lasciato di sasso i difensori di Nashville e finalmente la palla che prende l'oramai famosa traiettoria infilandosi tra palo e portiere. Estasi per i tifosi allo stadio, davanti alle televisioni e sui social, dove si attendeva con ansia la prima di insignia con la sua nuova maglia. Che poi si è improvvisamente allargata, perché l'esultanza è stata molto particolare, tutta dedicata alla sua compagna Jenny in dolce attesa, pallone sotto la maglietta e pollicione in bocca. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra, ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.